e ciao a tutti ragazzi eccoci qua per questo nuovo video oggi video unboxing ma poi passeremo in garage e vi faccio vedere due pacchettini che mi sono arrivati il primo è per andare a un po completare gli accessori per la moto mentre viaggio avevo già preso una cosa del genere che ho passato sulla macchina quindi ho voluto prendere diciamo la stessa cosa più o meno per la moto e un po più piccola un po più portatile infatti ho preso questo della xiaomi un mini compressore appunto da poter portare sempre con sé in caso di avvenienza questo è addirittura più piccolo dell'altro vi lascerò anche comunque la scheda dell'altro video in descrizione e qua appunto abbiamo e qua abbiamo il nostro mini compressore della xiaomi quindi andiamo ad aprire il pacchettino e qua troviamo il nostro mini compressore della xiaomi se vi interessa vi farò un video test ditemelo qua in descrizione che per il momento mi sa che non si accende sarà da caricare ovviamente quindi oltre nostro mini compressore qua c'è il nostro sacchettino una bella sacchettina da poter portare in viaggio sempre ok funziona funziona ok qua ci sono i vari attacchi funziona già ragazzi e qua abbiamo anche tutti gli attacchi ok c'è il nostro cavetto di ricarica in più tutti i vari attacchi però questo dovrebbe andare bene già per la moto poi comunque si andrà a testare è molto più piccolo dell'altro quindi è molto più piccolo dell'altro più tascabile e molto più leggero anche mi sembra quindi via molto bene primo pacchettino fatto andremo a caricarlo e poi è molto è molto meglio perché comunque appunto la ricarica funziona con l'usb e invece l'altro aveva cavetto dedicato quindi era un po più scomodo da ricaricare ed è molto ma molto più leggero ragazzi molto più leggero molto più compatto comunque ditemi voi se volete una test di questo oggettino qua che mi sembra molto molto buono vedete si spegne quando andiamo a riporre il cavetto qua e si spegne perfetto andremo a fargli comunque un bel test un bel test a questo aggeggino della xiaomi quindi una marca molto buona e via con un pacco e l'altro pacchettino che penso darà il titolo al video perché è una cosa è una cosa che ho preso per personalizzare la moto sono questo kit di di adesivi quindi facciamo non sono stati molto bravi perché l'hanno imbustati proprio alla perfezione sono andato a prendere questo kit di adesivi da mettere su sulle borse sulle borse laterali non mi sembra affatto male pensavo che erano più grandi però almeno darà un tocco di colore alla alla moto poi andiamo giù a montarlo insieme qua ci sono le istruzioni quindi ragazzi io direi che ci trasferiamo in garage per andare a applicare queste belle cose ecco ragazzi quindi andiamo ad attaccare questo adesivo qua prima cosa visto che io faccio un rilievo della cappa quindi andrò a ritagliare fuori in due pezzi così uno lo metto sotto e uno lo metto sopra allora andiamo a ritagliare i due pezzettini poiché andiamo a rimuovere la carta il supporto di carta ok e qua ci resta il nostro adesivo quindi andiamo a prendere le misure qua non dovrebbe andare a cozzare con niente quindi con la spatolina che ci danno in confezione andiamo a appiccicare il nostro adesivo andiamo a appiccicare bene ok un pezzo l'abbiamo fatto poi facciamo la stessa operazione per la parte sotto ok quindi andiamo a mettere anche questo questo cerco di centrarlo mettendolo a bordo qua sotto ok sempre con la nostra spatolina andiamo ad appiccicare andiamo ad appiccicare bene tutto quindi adesso aspettiamo aspettiamo tre minuti che c'è sulle istruzioni aspettiamo i tre minuti e poi vediamo il risultato finale sperando che sia qualcosa di decente ok quindi passati i due o tre minuti adesso andiamo a tirare via la pellicola sperando che rimanga giù ma non rimane giù ok andiamo pian pianino e voilà un pezzo è fatto adesso proviamo il pezzo sotto ok ragazzi no ok mica tanto allora aspettiamo ancora un po' per quello sotto visto che non si è attaccato ancora bene e non vorrei far danni però questo sopra è venuto davvero bene aspettiamo ancora un po' per quello sotto ok ragazzi ce la dovrei aver fatta sono andato un po' col phon a scaldare il tutto e guardate e via e via e via bellissimo mi piace adesso col phon per farlo aderire molto ben meglio andiamo a scaldarlo di nuovo così da andare a farlo aderire di più ok diciamo lavoro mi sembra fatto molto bene guardate qua ok quindi una borsa fatta poi andrò a fare anche la seconda ma penso che ragazzi è un bel risultato comunque con 20 euro vi portate a casa una bella borsettina una bella valigia laterale così non mi sembra male cosa ne dite e niente ragazzi io niente ragazzi io spero che questo video vi sia interessato è per me la prima volta che faccio metto un adesivo quindi penso sia avvenuto un un lavoro decente vi lascio comunque il link in descrizione per questi per questo tipo di adesivi ci sono vari colori rosso blu vabbè comunque ci sono vari colori trovate vari colori io ho scelto il giallo perché ho il casco giallo tutte queste cose qua quindi bianco e giallo ci sta diciamo sulla moto nera e quindi niente ragazzi vi ricordo se non l'avete ancora fatto di lasciare un bel mi piace vi ricordo inoltre di iscrivervi al canale lasciando attiva la campanella delle notifiche per essere sempre aggiornati sulle novità io vi ringrazio di aver visto questo video e ci vediamo alla prossima ciao ciao ciao